Si stava avvicinando ad una banca con una pistola nascosta dentro ad uno zainetto, ma il suo atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai carabinieri e per lui sono così scattate le manette. È successo nella tarda mattinata di ieri ad Arezzo. L'uomo, un 38enne residente a Firenze, una volta arrivato in città, aveva infatti deciso di incamminarsi sino alla sede di una banca nel centro cittadino. Qui aveva iniziato a scrutare la zona in modo nervoso. L'uomo è stato così bloccato dopo qualche minuto di attenta osservazione dai militari ad un passo dalla soglia della banca. Da un controllo poi sono saltati fuori i precedenti penali del 38enne e la pistola con matricola brasa custodita dentro allo zainetto. L'uomo è stato così arrestato per porto d'arma clandestina con matricola brasa e condotto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Arezzo in attesa del rito direttissimo.